E ciao a tutti ragazzi, oggi torniamo in questo nuovo video Oggi ragazzi è uscito il nuovo timer per il nuovo evento finale di Fortnite 7 giorni, 8 ore, 12 minuti e 15 secondi Però prima di inserire tutto il video mi raccomando di andare a usare il codice GAP E mi raccomando subito di seguirmi su tutti i social Instagram e Telegram Chris & Fallon, Chris & Fallon su tutti e due mi raccomando di lasciare subito un bel ecco, una bella iscrizione Pensate alla campanella delle notifiche per non perdere i miei video e le mie live Buona visione per il video Ok ragazzi vi stavo dicendo, escero 7 giorni, 11 minuti e 49 secondi Però ragazzi vi devo fare un'altra cosa Il trailer dell'evento, eccolo qui ragazzi Affronta la regina dei cubi nel finale del capitolo 2 The Undy il 4 dicembre alle 22, l'evento sarà sabato Non questo, il prossimo Un'italiana segnati Vabbè, guardiamo il trailer E poi, va bene Eccolo qui ragazzi Ok ragazzi Però comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto Spero che voi venite anche in live sabato, non so che numero è E spero che venite E noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi, sono uscite nuove cose, bella Ciao